un saluto a tutti questo è il canale gruppo studi girar un canale che si occupa della diffusione del pensiero di questo critico letterario antropologo francese del novecento attraverso l'analisi di opere di vario tipo la letteratura cinema e questa sera ci occuperemo insieme agli amici irume akumezu di animemanga.it di animazione giapponese in particolar modo abbiamo concepito questo questo video come a tutti gli effetti una sorta di invito ad andare a vedere l'esordio alla regia in lungometraggio di satoshi con perfect blue film del 97 che per misteriose ragioni in qualche modo fortunatamente distributori ci hanno ci deliziano quest'anno lo fanno uscire per pochi giorni in realtà nelle sale 22 23 24 e quindi ovviamente siccome è un film fondamentale sotto tantissimi punti di vista non solo per inquadrare in qualche modo la poetica di satoshi con ma in generale un film in qualche modo di transizione epocale sotto tanti punti di vista anche se un film molto piccolo da un certo punto di vista sempre appunto sarà interessante parlarne senza spoiler vi invito a iscrivervi al canale a mettere un like vi invito poi a seguire su tutti i social il blog delle cose nascoste anche su facebook instagram seguirci nelle nostre attività sul blog è presente un'analisi molto approfondita del film nel senso che è una decostruzione scena per scena e diciamo a film visto secondo me vale la pena poi fare un giro sul blog per vedere tutti le possibili letture decostruzioni eccetera questa serie invece ci occupiamo semplicemente di introdurre in qualche modo alla visione e lascio la parola allora a comezzo che ci introduce al film salve a tutti io sono alcumetsudianimimanga.it vi introduco brevemente naturalmente quelle che sono diciamo dal punto di vista della trama di questa pietra miliare dell'animazione giapponese di cui magari potremmo parlare anche a livello produttivo è stato davvero un miracolo ma ne parleremo parliamo quindi del film che segna l'esordio come regia del grandissimo Satoshi Kon film che come diceva prima Matteo esce nel 97 in Giappone ed è liberamente ribadisco liberamente ispirato al romanzo di Yoshikazu Takeuchi del 1991 prima di partire con la trama sul sito animemanga.it trovate anche il coupon sconto per andare a vedere il film al cinema a prezzo ridotto nelle sale aderenti coupon sconto gentilmente offerto da Nexo Digital che riporta al cinema questo film ritorniamo a bomba sul su Perfect Blue di Satoshi Kon pietra miliare dell'animazione fortunatamente possiamo rivederlo nelle sale cinematografiche in questa versione restaurata in 4K e la protagonista Mima Kirigoe è un idol canta in questo gruppo formato da tre ragazze che formano il gruppo delle Cham gruppo che va davvero benissimo ma Mima è insoddisfatta e questa insoddisfazione la porta quindi a voler cercare di più dalla sua vita e decide quindi di intraprendere la carriera di attrice e inizia in questa serie doppio legame tradotto dall'inglese Double Bind serie che diciamo ha tematiche molto più cupe rispetto a quello che è il mondo delle idol rispetto a tutto quello che ha portato nella sua carriera e già questo provoca uno scollamento per quanto riguarda la sua fanbase che iniziano a non propriamente apprezzare questo cambio e soprattutto nel momento in cui poi nasce anche un sito internet dal titolo Mima's Room che praticamente descrive nel dettaglio la vita di Mima e nonostante diciamo questo espediente Mima decide comunque di continuare la sua carriera c'è un momento nel quale il produttore decide diciamo di coinvolgerla in una scena di stupro questa scena di stupro cambierà drasticamente quella che è la percezione di Mima della vita e sia diciamo uno dei suoi fan più accaniti che diventerà poi in tutto e per tutto uno stalker guidato tra virgolette anche da una figura diciamo che orchestra alle spalle e che dà delle direttive allo stalker insomma la vita di Mima diventerà sempre più complessa e complicata e lei reagirà vivendo un vero e proprio scollamento tra quella che è la realtà e quella che invece sono diciamo le sue ossessioni in un finale che diventa sempre più coinvolgente che coinvolgente anche proprio per lo spettatore arrivando ad una risoluzione che è davvero brillante sotto tutti i punti di vista e sul quale ovviamente non mi dilungo ulteriormente off screen parlavamo con Matteo del fatto che è più che gli appassionati di anime e film d'animazione giapponese questo film viene decantato e vengono annoverati i pregi soprattutto per quanto riguarda il mondo forse più della cinematografia che quelle dell'animazione in realtà è diciamo che non soltanto per tematiche ma anche per il tipo di taglio che è stato voluto dare a questo film che nasce originariamente unicamente per il mercato un video o meglio doveva essere un OAV al quale però era stato dato a libera diciamo facoltà a Satoshi Kon di poter prendere dalla materia originale il romanzo è molto diverso da questo film perché è un romanzo che si concentra molto di più sulla questione idol e thriller barra horror ok mentre Satoshi Kon che non era assolutamente soddisfatto di una trama diciamo abbastanza banale ha cercato di dare il punto di vista non di chi agisce ma di chi subisce e ha voluto cercare di dare diciamo alla sua protagonista diciamo una persona che attiva che subisce poi determinate situazioni dalla vita che la segnano profondamente e che quindi subisce la vita e le ripercussioni che questi avvenimenti possono avere ma ovviamente diciamo portando lo spettatore all'interno di questo percorso personale della diciamo della protagonista Mima riesce poi comunque a dare una risoluzione quanto mai positiva e soprattutto risoluta venne dato poi alla produzione a Madhouse facoltà di proporre questo progetto come film all'estero e nell'occasione venne citato niente po' di meno che un altro grandissimo caposaldo dell'animazione giapponese colui che ha dato il via anche a quella che è la carriera di Satoshi Kon ovvero Katsuhiro Otomo sponsorizzarono il film dicendo che Katsuhiro Otomo era diciamo produttore del film in realtà Katsuhiro Otomo non ne sapeva assolutamente nulla e diciamo venne coinvolto dal fatto che era rimasto diciamo legato a Satoshi Kon che ne aveva riconosciuto il talento e il valore quindi avvallando questa cosa e arrivò nei principali festival europei ed internazionali ha riscosso un grandissimo successo e venne poi successivamente acquistato proprio dalle principali diciamo case di produzione europee infatti il film è arrivato anche in Francia, in Inghilterra, in Spagna oltre che all'Italia naturalmente e finalmente quest'anno riusciamo a godircelo in versione 4K totalmente rimasterizzata per la prima volta al cinema per la prima volta al cinema certo prima di passare la parola a Teo volevo fare qualche piccolo inciso prima di andare a sviscerare un pochino tutte le tematiche che come sempre Satoshi Kon porta nei suoi film la prima cosa che sicuramente emerge la forte critica al mondo delle idol che voglio sottolineare questa cosa perché a differenza di tante altre tematiche che possiamo sentire più vicine al nostro sentire il mondo delle idol è molto lontano dalla nostra società è un mondo di cui forse adesso si inizia a sapere qualcosina in più ma che non è parte della nostra cultura magari può essere utile prima di vedere il film capire un po' che cosa significa essere un idol la cosa viene anche spiegata nel film però non credo neanche sia troppo semplice perché non si tratta semplicemente di quella che noi possiamo vedere come una velina non è semplicemente una ragazza immagine è molto di più per il giapponese medio fa parte della loro cultura assolutamente il modo in cui viene formata il modo in cui viene presentata al pubblico è molto lontano dal nostro concetto di ragazza immagine cioè l'idol è un simbolo di cosa che viene detta anche nel film di purezza di irraggiungibilità candore in grado di fare spettacolo cantare ballare e tutto il resto questo concetto è presente nel film una delle critiche che viene fatta a Mima è proprio il fatto di star intaccando la sua purezza di starsi corrompendo vi ringrazio comunque per questa introduzione sul lato soprattutto produttivo e da un certo punto di vista socioculturale io ho la convinzione che che Perfect Blue sia un film che secondo me è talmente potente che raggiunge indifferentemente anche un pubblico occidentale che non conosce contestualmente i meccanismi della società giapponese dello spettacolo e non perché è veramente in grado di con veramente una sapienza sia di scrittura che di regia di scelte registiche di rendere in pochissime scene cioè veramente con una condensazione del tempo e un'economia proprio della narrazione eccezionale veramente strabiliante condensare tutto in pochissimi cioè in un'ora e venti scarsa far arrivare tutto cioè far arrivare tutto quello che è il dramma a tutti gli effetti possiamo dire di un passaggio cioè di una transizione da un'immagine all'altra cioè come dire viene meno scegliere in qualche modo di abbandonare tentare di scegliere in mezzo al veramente alla rete di mediazioni feroce selvaggia proprio che da una parte la folla dei fan la fanbase eccetera come dicevate dall'altra proprio anche le persone che stanno vicino a Mima scegliere appunto di cambiare in qualche modo di sognare di diciamo tentare di intraprendere comunque un percorso personale possiamo dire così e subire proprio in questo processo la difficoltà di ricostruire un'immagine e che cosa significa appunto portarsi dietro anche il senso di colpa delle proiezioni di desiderio intorno all'immagine che mi identificava tutti gli effetti è un film da questo punto di vista incredibile e aggiungo questo tra le altre cose che si potrebbero aggiungere secondo me anche un film che come del resto chi conosce un pochettino ma si in tutto sommato anche titoli veramente importanti del cinema occidentale mainstream di altissima qualità sa che voglio dire tanti grandi registi hanno preso a piene mani da Satoshi Kon in maniera più o meno dichiarata Satoshi Kon è un regista decisamente influente ahimè è riuscito a lavorare troppo poco per la sua morte prematura ma è veramente un regista da questo punto di vista eccezionale ed è secondo me influente perché è riuscito perfettamente a capire veramente il momento epocale di transizione da un periodo appunto quello della fine anni 90 che ci stava slanciando tutto sommato verso cioè anticipando veramente tutte le problematiche legate in qualche modo al mondo dei social al virtuale e tutto ciò che poi in fondo va a problematizzare la questione dell'identità in rapporto all'immagine che si crea può essere creata e comunque sarà sempre vista questa questione della centralità dello sguardo rispetto all'immagine che viene vista è centrale quindi io credo veramente che tanti grandi registi penso per esempio a Lynch abbiano preso da Satoshi Kon io nel saggio che ho scritto a riguardo propongo una suggestione rispetto a diciamo così rispetto all'utilizzo in maniera veramente veramente centrata del nastro di Mebius come struttura narrativa che inizia a tutti gli effetti poi nella politica di Lynch nel 97 con strade perdute e diventa sempre più in qualche modo cruciale per l'evoluzione dei suoi ultimi lavori inizia in qualche modo già ovviamente degli avvisali e dei segnali ci sono già anche precedentemente ma in maniera diversa secondo me Perfect Blue è uno dei primi testi che rende in maniera così interessante la questione di portare avanti una doppia narrazione appunto il double bind il doppio legame della metanarrazione all'interno del film che secondo me ha fatto scuola così come ha fatto scuola evidentemente anche banalmente per i semplici meccanismi del thriller psicologico ci sono delle grandi riprese nel senso ci sono delle grandi in qualche modo dei grandi riferimenti a cinema del passato io penso soprattutto a De Palma e vedo poi evidentemente poi ovviamente il cigno nero di Aronofsky e il cigno nero di Aronofsky non è nient'altro che Perfect Blue ma secondo me con tutta una serie di diciamo così di punti di divergenza soprattutto nell'evoluzione della della narrazione che ti fa dire secondo me cioè quando si prende il cigno nero e si mette di fianco Perfect Blue secondo me il perfetto cioè si capisce perfettamente che cos'è la narrazione occidentale e i presupposti narratologici occidentali e invece come funziona e qual è la sensibilità da Girardiani non diciamo una sensibilità mimetica romanzesca invece e tipica proprio della narrazione della narrazione orientale secondo me non c'è esempio migliore proprio a livello di meccanismi risolutivi ovviamente io non posso dire troppo perché ovviamente abbiamo detto no spoiler invito alla visione ma secondo me un presupposto di metodo è quello di un consiglio è vederlo e o rivedere o vedere per la prima volta il cigno nero di Aronofsky per capire effettivamente quali sono le profonde differenze tra i dispositivi narrativi occidentali e quelli e quelli orientali e al centro c'è tutta una questione legata a come vengono messe come vengono cioè come proprio viene messa in scena la trama delle relazioni la concretezza delle relazioni nonostante appunto sia un film Perfect Blue ma non solo ma Perfect Blue in particolare è un film fatto di fantasmi di immagini di doppi di allucinazione forse di sogno di metanarrazione è un film di una complessità rara ci sono almeno sono almeno presenti tre barra quattro livelli di lettura contemporaneamente condensati in un'ora e venti perfettamente funzionanti e funzionali e da un certo punto di vista io credo che sia letteralmente un miracolo della della narrazione Perfect Blue cioè ma ripensandoci proprio è proprio l'idea di riuscire ad essere così preciso e non buttare via nessuna sequenza ogni cosa ha un suo senso tra l'altro la cosa è pazzesca perché è pure affascinante dal punto di vista anche di banali meccanismi del thriller slasher cioè volendo potrebbe essere un semplice slasher ok per esempio una narrazione contemporanea che prende a piena giapponese questa che prende a piene mani da da Perfect Blue è Oshinoko che riprende la riprende la quel quella dinamica da un certo punto di vista poi con tutta una serie di evoluzioni però è interessante come come dire a distanza di a distanza di un bel po' di anni l'influenza si vede si vede ancora quindi secondo me prima di tutto va ricordato questo e va ricordata la grandezza di Con pensiamo pensiamo anche solo all'incipit del film no senza fare spoiler però già l'incipit del film farà capire allo spettatore che tipo di film sta andando a vedere un film nel quale diciamo il regista frantuma quelli che sono i piani della realtà e con un'opera di montaggio estremamente fine noi vediamo la figura di Mima alternarsi tra la vita di tutti i giorni e quella della idol tra momenti di vita che sembrano così distante tra loro collegati però non soltanto dalla figura stessa ma magari anche dalla musica dal movimento e quindi diciamo come quando si muove a tempo di musica nella metropolitana noi la vediamo nella metro e poi con un taglio improvviso la vediamo sul palco quindi è un film nel quale diciamo veramente lo spettatore dovrà mettere in discussione anche quelle che sono diciamo le sue certezze sui punti di vista rispetto a determinate cose quello che accade a Mima è qualcosa che diciamo può essere anche tranquillamente capitato a chiunque di noi non nella diciamo nella maniera più diciamo spinta del film è quello che la coinvolge dal punto di vista traumatico e drammatico però come diceva anche Teo all'inizio proprio la questione delle aspettative degli altri su quello che si vuole da se stessi su quello che è la definizione dell'io e di se stessi Mima è un personaggio che noi vediamo sin dall'inizio non essere propriamente definita come tutti quanti noi del resto ambire a qualcosa di più rispetto a quello che ha ottenuto e quasi venire schiacciata dal peso delle aspettative degli altri nei suoi confronti ma a tutti i livelli non soltanto dal fan che si aspetta ecco che l'immagine come anche diceva Iruma prima l'immagine resti quella immacolata diciamo bloccata cristallizzata nel tempo lei vuole cambiare nel divenire lei cade anche in questa diciamo vittima tra virgolette anche di se stessa di quello che che le capita però anche a livello di proprio di struttura narrativa e come diceva Teo giustamente prima noi vediamo il thriller che avanza non è sempre un film che diciamo resta fine a se stesso comunque che si crogiola nella sua qualità tecnica e o diciamo nelle quelle che sono le riflessioni che pone allo spettatore ma è un film che ha un inizio e una fine che sono assolutamente coerenti in un viaggio che può che sicuramente chi avrà il piacere e la voglia di affrontare questo viaggio sicuramente troverà potrà interiorizzare perché si parla di Satoshi Kon forse in un po' tutti i suoi film forse più tra i cinefili che tra gli appassionati di anime e manga e quant'altro Satoshi Kon viene da un po' la scuola di Otomo un po' il filone di Otomo un filone che è molto occidentale è il filone che ha portato l'animazione giapponese un po' nel mondo che si è distaccato da quelli che erano i canoni dell'animazione giapponese e ha strizzato molto più l'occhio a produzioni occidentali sia a livello grafico che narrativo ovviamente permangono tutta una serie di strutture e substrati culturali che sono tipici del mondo nipponico però rispetto alle produzioni mainstream o meno del periodo sono film completamente diversi tant'è che da questi film come si diceva prima ha preso spunto proprio la cinematografia americana internazionale forse più di quella nipponica faccio per dire la struttura del film miazachiano è completamente diversa a livello di ritmo a livello di colpi di scena a livello di taglio registico ci sono enormi differenze e il modo di raccontare il stato a Shikon sicuramente fa la differenza e questo può generare sicuramente un appeal forse leggermente inferiore negli appassionati di anime classici passate nel termine e potrebbe interessare molto di più appassionati di cinematografia in generale in particolare di thriller cioè secondo me il punto cioè in fondo è esattamente questo cioè a prescindere da un'indagine che credo sia tutto sommato poi cioè sarebbe in fondo quella che poi Girard chiamerebbe un'ultima menzonia romantica cioè non esiste questo sogno di autonomia di libertà di scienza sono tutte proiezioni tutto sommato veramente da metafisica occidentale piuttosto retriva non è tanto questo secondo me poi in fondo cioè la questione centrale non voglio più essere qualcosa non voglio più essere fondamentalmente cioè non voglio più aderire a una certa immagine di me ok sui peraltro è canalizzata chimeticamente veramente tutto un flusso di desiderio che mi vuole ferma bloccata ok in questa appunto tutte le fede questa immagine idolatrica ma il movimento di transizione da un'immagine a qualcosa che ancora non c'è e devo costruire è è un inferno è un dramma soprattutto perché si sta all'interno di un certo tipo di contesto ci sono cioè la cosa bella secondo me di Perfect Blue è che appunto come dicevo ogni scena è preziosa anche quelle che sembrano più di transizione banali non ve ne è una ogni scena è di una densità incredibile secondo me una delle scene più belle è quando lei inizia l'approccio alla appunto diciamo al mondo della televisione barra cinema comunque al mondo cioè dove per la prima volta entra in quel mondo lì e si vede come lei proprio è soprattutto alla ricerca di una nuova mediazione cioè di un nuovo modello che appunto riconosce nell'attrice fondamentalmente protagonista al centro diciamo ed è bellissimo quel momento per cui cioè dove ti fa vedere come cioè questo non lo farebbe mai non ci sarebbe mai in un film occidentale tutto centrato sull'autonomia tutto centrato sulla sono libero di costruirmi come voglio come desidero lì la prima cosa che viene fatta all'interno di un nuovo contesto è riconosco un modello mi aggrappo mi identifico ok e questa è la sensibilità tipicamente relazione giapponese perché è quella roba lì che getta scandalo e getta problema all'interno del film prima di tutto quindi non solo l'aspetto cioè per tutta una serie di personaggi il problema in primis ovviamente Mima che vive tutti questi problemi questa somma di problemi incredibile da gestire è mi stacco da un'immagine definita poi c'è tutto anche il problema legato alla costruzione alla costruzione della nuova immagine che va a problematizzare tutta una serie di relazioni ed è eccezionale per me poi una delle cose più veramente più cioè veramente più non lo so più profetiche poi l'unica parola che mi viene da dire è profetiche per cui tutta la questione del blog della stanza di Mima questa questa vita simulata da altri che ha la potenza di a tutti gli effetti di creare una vita cioè creare una vita fantasmatica cioè che ha una sua autonomia e che mi assedia cioè mi mi perseguita è pazzesca questa cosa qua perché appunto cioè viene tipo 20 anni prima quantomeno 20 anni prima quello che poi quotidianamente viviamo così come e poi mi ti passo la parola a comezzo cioè il fatto della sensibilità di quanto possano essere perturbanti estragnanti inquietanti spaisanti questa proliferazione di schermi che moltiplica la mia immagine frammentata tutta la questione degli spazi liminali in qualche modo di cui c'è già si avverte già tantissimo una profondissima sensibilità non ancora evidentemente a pieno espressa ma c'è un annuncio e e e cioè e tu percepisci che nella cioè in qualche modo nella libertà di un film di questo tipo perché libertà nel senso che cioè un film che non doveva nemmeno essere così potente è un film talmente così diciamo marginale che si permette di ragionare sulla questione del margine dei margini che ci sono nella vita quotidiana e soprattutto in un momento di transizione epocale tutte questioni che mettono in discussione l'identità le identità le soggettività e poi ovviamente ci sono appunto molteplici molteplici livelli di lettura all'interno del saggio io propongo comunque un passaggio anche all'interno di un percorso legato alla psicanalisi legato a Freud la cane eccetera ovviamente al centro c'è c'è un manuale dal punto di vista cioè per uno studioso di Girard Perfeblu è veramente un manuale cioè un pozzo insieme a un manuale una miniera è veramente pazzesco è ricchissimo da questo punto di vista e quindi niente volevo dire volevo dire questo mi raccomando leggete l'articolo di Teo che è molto molto interessante naturalmente dopo aver visto il film perché altrimenti potreste perdere qualche qualche chicca che il film vi propone che dovete assolutamente vivere nella nella visione nel film in Perfect Blue è chiarissimo che l'immagine non corrisponde alla realtà e questo lo sottolinea il film è il regista sempre e ritorniamo alla questione di quanto questo film sia attuale sotto questo punto di vista noi abbiamo anche altri esempi come Akira come io sono rimasi sconvolto da Ghost in the Shell di quanto appunto con così tanto preavviso con così tanto tempo prima questi autori nipponici abbiano pensato e vissuto già delle problematiche che all'epoca sembravano così tanto distanti in un futuro quasi distopico futuro forse e invece che sono la nostra praticamente la nostra realtà se ricollegandomi a quello che dicevo Teo e su Mimas Room quindi questa realtà fittizia che paradossalmente diventa a sua volta una vita e pensate ad oggi l'impatto delle intelligenze artificiali e sul fatto che delle immagini fake che però sono così tanto simili così tanto realistiche che mettono in discussione effettivamente se quella persona è vera è autentica e lei stava davvero facendo quelle cose ha veramente detto quello tutto questo per dirvi che se non avete avuto modo di vedere Perfect Blue o magari non ne avete sentito parlare ecco non è perché il film sia estremamente di nicchia o perché sia un qualcosa di così noioso e devastante nell'animo che cioè vale tutta la vita non vederlo non lasciatevi tediare dal fatto che appunto sia un film così stratificato è un film che anche semplicemente dal punto di vista narrativo vi prenderà sicuramente è un film che vi lascerà col fiato sospeso e che sicuramente vi porterà ad una risoluzione che vi darà soddisfazione perché è quello che personalmente ho provato nella visione del film la soddisfazione nel non posso dirvi il finale ma nel il momento nel quale Mima afferma una determinata cosa io l'ho trovato di una soddisfazione incredibile questa è un'occasione più unica che rara perché vederlo poi al cinema in qualità altissima tutti noi qui presenti lo abbiamo visto nel ovviamente della sua versione originale quindi in una versione che sicuramente non è a livello di quelle che sono le moderni tecnologie quindi andate al cinema e poi naturalmente potete scusare l'ho recensito trovate anche la mia recensione ovviamente sul sito e l'ho recensito 11 anni fa era maggio 2013 l'ho recensito mamma mia quanto tempo è passato effettivamente il remastered in 4k ce lo sognavamo cioè io aspetto quello di Paprika a questo punto ma magari magari ma poi secondo me il fatto di poterlo vedere al cinema per la prima volta in qualche modo cioè dà la possibilità di godersi quello che per me a tutti gli effetti parallelamente alla diciamo così alla finezza e alla cumene della scrittura è la composizione così complessa e così stratificata di ogni singola inquadratura cioè per me poter vedere l'inquadratura che imposta con in tantissimi momenti soprattutto nei momenti che sembrano diciamo così più appunto di transizione più di passaggio in realtà sono quelli i momenti in cui vengono filtrati maggiormente tutta una serie di direi proprio tutti gli effetti di chiavi di lettura del film cioè veramente la come dire la possibilità per chi l'ha visto e rivisto come noi e visto ovviamente su magari un piccolo schermo era appunto la possibilità di fermarlo poi e di vedere appunto di studiarsi ogni passaggio ogni singola inquadratura però appunto l'idea di poterlo vedere al cinema come un flusso così diciamo così come esperienza prima di tutto almeno una volta e appunto resta resta assolutamente affascinante da questo punto di vista quindi ovviamente l'invito è anche da parte nostra Satoshi Kon è un grandissimo regista cioè ma proprio uno dei più grandi della storia del cinema giapponese e veramente esena no erano di di geni assoluti però ha quella capacità comunque da una parte diagnostica da una parte proprio una sensibilità delle transizioni epocali della transizione epocale a tutti gli effetti che è pazzesca cioè veramente profetico e dall'altra veramente una una grande visione una grande una grande poetica cioè nel senso che è proprio un autore riconoscibile perché ci sono tutta una serie di tematiche ma non più che tematiche dove sì anche quelle ma è proprio una questione di linguaggio filmico che lui a tutti gli effetti ha battuto e ha fatto sua ed è riconoscibile poi che lo fa diventare tutti gli effetti un autore più di altri ma vuol dire ma anche Mamoru quello sicuramente io sì Mamoru ossia assolutamente o i viacchi hanno cioè nel senso non è che è da solo a parte alcune scelte prettamente registiche a livello di inquadrature tagli e simili anche anche al ritmo perfect blue inizia in maniera incalzante inizia con i tagli continui lo spostarsi salti temporali forse cambi di scena repentini quindi inizia con un ritmo serrato mentre quello a cui tendenzialmente ci abitua la struttura orientale è un'introduzione tendenzialmente più lenta lo vediamo sia nelle serie che nei film quindi una parte più dilatata poi si passa alla parte più attiva più dinamica e poi c'è la conclusione diciamo questa struttura questo secondo me è tanto il codice del genere cioè comunque è un thriller cioè quindi ha quel tipo di ritmo e verosimilmente la produzione gli ha detto cioè non è che puoi fare due ore e mezza di film e quindi ha dovuto condensare secondo me tutta una serie di scelte poetiche che a tutti gli effetti poi diventano sono diventate una sua poetica è l'idea di come faccio a condensare tutto questo materiale narrativo io ho la sensazione che per certi aspetti sia un esperimento per Fat Blue ma uno degli esperimenti più riusciti della storia del cinema cioè come opera prima così brillante cioè sia dal lato della scrittura sia dal lato della regia veramente se ne trovano pochissime come esordio a lungometraggio di questo livello poi è vero secondo me è un film veramente famosissimo ma forse appunto poco visto e anche tra coloro che l'hanno visto appunto poco riconosciuto quindi è poco discusso forse è poco discusso se ne parla poco quindi parliamo ha tenuto banco diciamo negli ultimi sei mesi la questione del film di Miyazaki il suo decantato come capolavoro assoluto che sicuramente per per alcuni lo lo può tranquillamente essere non vogliamo mettere in discussione questo nella visione nel giudizio né il gusto delle persone però se si pensa a questo si pensa a Perfect Blue di Satoshi Kon Satoshi Kon non è inferiore a Miyazaki sotto nessun punto di vista però naturalmente le tematiche il come vengono trattate il fatto di essere diciamo ecco più leggero di Miyazaki sicuramente ha aiutato a far sì che sia un riferimento per anche diciamo leggero tra molte virgolette certo sì sì sicuramente sì sì sicuramente noi ripeto siamo i primi ad apprezzare Miyazaki soprattutto ad apprezzare il primo Miyazaki però ripeto tanto è vero che è diventato ormai anche alla luce del suo ultimo successo riconoscibile come associabile a film di animazione giapponese però Perfect Blue ripeto anche rispetto a sia diciamo all'ultima all'ultimo sua pellicola non è inferiore ma assolutamente è Perfect Blue è più cinematografico sì sì in senso ampio del termine mentre diciamo l'ultimo Miyazaki ma in generale Miyazaki la differenza qual è fondamentale poi cioè secondo me la parola che volevo utilizzare come se non è tanto cioè leggero nel senso tra anche virgolette ma Miyazaki ci è diventato familiare in qualche modo e quindi lo riceviamo veramente cioè lo accogliamo a tutti gli effetti e questo banalmente perché ogni anno vengono ridate costantemente maratone dei film di Miyazaki mentre non arriva non è mai arrivato praticamente nulla né di Oshii né di Anno né di appunto Con se non appunto rarissimissimissime eccezioni e questo secondo me appunto è un peccato perché è un peccato proprio perché è più user friend sono gravi è più user friend né più né meno punto e quindi ok va bene insomma questo era a tutti gli effetti un video propedeutico alla visione assolutamente e quindi tanto quindi andate al cinema andate al cinema ragazzi e poi sicuramente ne possiamo riparlare in maniera più approfondita questo è poco ma sicuro fateci sapere come sempre il vostro parere è fondamentale tanto per noi quanto per per Teo e il il suo gruppo di lavoro assolutamente sì però mi raccomando 22 22 23 24 aprile benissimo appunto e vi ricordo appunto di mettere un like al video se vi piace di iscrivervi al canale di andare a consultare comunque anche il nostro blog dove trovate appunto un'analisi super approfondita e appunto sarebbe interessante nel caso evidentemente poi magari confrontarsi più in là e quindi intanto ringrazio Akumezu e Iruma di Anime Manga andate a trovare anche il loro sito il loro canale YouTube e tutto quanto e alla prossima e e Grazie a tutti